Vorrei dire al collega Di Maio, che a suo tempo votai come Vicepresidente, che non saranno i trucchetti su scontrini e rimborsi spese fantasiosi a farlo diventare Presidente del Consiglio. Con l'approvazione del conto consuntivo 2015, ho concluso, cara Presidente Boldrini, del bilancio per il 2016, siamo in linea con una più complessiva azione di modernizzazione delle nostre istituzioni e di questo dobbiamo ringraziare lei, i questori e la Presidenza nel suo insieme per la profondità e l'equilibrio di questi interventi. Tutti i motivi per il convinto voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Grazie, deputato Marantelli. Marantelli, allora, prima di passare al voto, colleghi, c'è il questore D'Ambruoso che chiedeva la parola. Sì, grazie, Presidente. Signori colleghi, cari colleghi, e non per una sterile e banale consuetudine, il Collegio dei Questori intende con convinzione ringraziare il lavoro anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, fatto dall'amministrazione, guidata dalla segretaria Pagano, che ha svolto un lavoro che abbiamo trovato anche quest'anno inappuntabile dal punto di vista della razionalizzazione delle spese. Quindi c'è un sentito ringraziamento da parte del questore Fontana, del questore Fontanelli, da parte di chi vi parla, e una vicinanza per tutte le parole aggressive che comunque anche oggi non sono mancate. Quindi grazie davvero per l'ottimo lavoro e ci auguriamo di proseguire con la stessa professionalità l'anno prossimo, che è un anno che tutti sappiamo essere particolarmente impegnativo per il lavoro di unificazione dei ruoli che ci aspettano. Grazie. Grazie, questore D'Ambroso. Allora, prima di passare a voti, colleghi e colleghe, lasciatemi dire che anch'io voglio ringraziare l'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori per l'impegno profuso e soprattutto per i risultati ottenuti, perché in questa legislatura noi abbiamo risparmiato 270 milioni di euro. non era mai...